Non devi, intanto ringrazio Dalia, se tu vuoi essere una donna di qualità non devi assolutamente essere una donna gelosa, la gelosia è tipico delle sciampiste, soltanto le sciampiste sono gelose, soltanto le sciampiste hanno paura di essere diciamo tradite. Perché tanto, diciamoci la verità, il tradimento è un qualcosa che, la paura del tradimento è un qualcosa che ti rende debole, ti rende fragile, non devi assolutamente temere il tradimento, non devi assolutamente temere nulla. E soprattutto quello che non devi fare, quello che fa una donna di qualità, non è andare a dire no, devi togliere le foto, ma c'è la foto, perché se tu esci, cioè hai una relazione con uno e questo ha le foto della ex magari sul profilo, che ne so, Instagram, TikTok o che cazzo ne so, Facebook, e tu fai la gelosa, tieni presente che c'è una legge fondamentale che più antagonizzi con un antagonista, più darai potenziale all'antagonista. Cioè, l'amante per dire, che dice al suo amante, lascia tua moglie, lascia tua moglie, darà solo potenziale alla moglie, e la moglie acquisirà ancora più potenziale. O viceversa, la moglie che gli dice non vedere l'amante, l'amante acquisirà più potenziale. Perché c'è una legge fondamentale, una legge universale, una sorta di legge gravitazionale, che dice che ad ogni coercizione corrisponde una compulsione uguale e contraria. Cosa vuol dire coercizione-compulsione? Vuol dire che se uno ti dice non devi far questo, non devi far quello, non devi far quell'altro, tu tenderai a farlo, tenderai proprio a fare questo, quell'altro e quell'altro ancora. Ringrazio Rosa, Rose, Rose. Questo è un altro punto fondamentale, se tu temi questo non riuscirai a raggiungere nessun risultato. Questo è un qualcosa che devi tenere presente. Invece le donne sono spesso gelose, no? Addirittura sono gelose delle foto che uno posta magari, eh ma sul profilo, che ne so, profilo Whatsapp c'è ancora la foto assieme alla ex. E tieni presente che la gelosia è una bagliare di cani che ti riladi. Cioè tutte le persone gelose automaticamente saranno cornute. E il livello di corna sarà direttamente proporzionale al livello di gelosia. Cioè non esiste una persona gelosa che non è cornuta. Ma anzi, io vi suggerisco questo. Se voi avete a che fare con una donna gelosa o con un uomo geloso, fategli le corna. Fategli le corna perché le persone gelose, da un punto di vista inconscio, vogliono essere tradite. Quindi come si seduce una persona gelosa facendole le corna? Tradendola. Questo è una grande rivelazione. Sto diffondendo la buona novella, ma è una verità. Le persone gelose le seduci facendogli le corna. Perché se tu gli fai le corna, vai, o comunque mettendogli il dubbio che tu possa fargli le corna, vai proprio a stuzzicare, vai a dare emozione. Perché la persona è gelosa? La persona è gelosa perché si difende, tende a difendersi dal, come dire, tende a difendersi dal fatto che, dal fatto che qualcuno possa tradirla. Perché teme. Il fatto del tradimento gli dà emozione. E quindi, come fai a dargli un pacco e una sporta di emozioni? Facendogli le corna. Soltanto facendogli le corna. O comunque facendogli intendere che potresti fargli le corna. E la devi incrementare, sta gelosia. Gli darai un botto di emozione molto forte. Questa è la rivelazione. La rivelazione del secolo. Quindi, però, tu, se invece vuoi capire cosa fa una persona, basta che fai un accertamento, no? Cioè, non è che c'è bisogno di essere geloso. A giorno d'oggi non c'è bisogno di essere geloso. E tutte le emozioni che si lamentano, su Instagram c'è ancora le foto con la ex, su WhatsApp c'è ancora la foto con la ex. Ma magari non l'ha vista, magari non si ricorda, magari non la toglie. Ecco, tutte queste situazioni. Poi, io, il suggerimento che do, se avete a che fare con una persona gelosa, comunque, lasciateli immediatamente. Perché le persone gelose, tra l'altro, nell'ambito di una relazione, possono diventare stalker, possono diventare tormentatori. Quindi, dal mio punto di vista, non starei mai con una persona gelosa. Se è una persona gelosa, la lascio all'istante, chiudo immediatamente la relazione. non voglio assolutamente saperne di una persona gelosa. Quindi, le persone gelose sono reiette, sono persone che non vuole nessuno. Quindi, toglietevele dai coglioni. Intanto, poi, se voi volete capire se una persona vi tradisce o meno, non è che ci vuole molto a capirlo. No, a giorno d'oggi è facile capirlo. Oppure, se uno è sposato, se uno è impegnato, io sentivo storie, eh, ma io ho scoperto dopo tanto tempo che era sposato. Prima mi sono innamorato, innamorata, e non sapevo che fosse sposato. L'ho scoperto mesi dopo che era sposato. Ma sei cretina! Ma come fa? Ma solo una stupida riesce a... non, cioè, non riesce a capire nel giro di una settimana che un uomo è sposato. Ma te, ma metti due settimane, basta che gli telefoni al sabato sera o la domenica pomeriggio e se lui ha il telefono spento o non ti risponde mai o non è disponibile mai vederti il sabato sera o la domenica pomeriggio è perché è sposato. Punto. Non c'è niente da fare. Poi c'è quello che può mimetizzare un po' meglio, perché magari fa un lavoro di un certo tipo, oppure quelli che hanno paura a farsi vedere in centro mano nella mano nella loro città. E questo è. E ti portano sempre al parcheggio del cimitero periferico oppure ti portano sempre mai, mai, mai in centro. Guarda, tu basta che vai nella loro città oppure non ti invitano mai a casa loro, non sai dove abiti. Insomma, come dire, al giorno d'oggi a capire che una persona è sposata ci va veramente, veramente, veramente poco. È veramente banale. Eppure molte persone non lo vogliono capire. Non lo vogliono capire perché io lo amo, io lo amo lo stesso, anche se è sposato lui ama me. Ecco, questo devi tenerlo presente. Se tu riesci a capire questi concetti riuscirai veramente, riuscirai veramente a diventare la persona migliore. E se poi si ha una a che fare con uno stalker che quelli che denun- bisogna denunciare, andare alle forze dell'ordine a denunciare gli stalker, ovviamente. Questo è un dato di fatto, no? Cioè, perché ci sono anche donne che restano con uomini magari eccessivamente gelosi che stalkerizzano. Allora, quando viene superato il limite, diciamo, della libertà una persona che non si sente più libera deve andare a denunciare. Ma subito deve farlo. Cioè, è ovvio che ci sono le forze dell'ordine, la polizia, i carabinieri, cazzo ne so, i magistrati. Rivolgesi a un avvocato che faccia questo. Insomma, non ci sono altre possibilità. D'altra parte, bisognerebbe accorgersene prima che una persona, bisognerebbe accorgersi prima che una persona è eccessivamente possessiva. Nel momento in cui te ne accorgi bisogna subito chiudere, bisogna subito chiudere le relazioni, le persone eccessivamente possessive, gelose, sia che siano uomini sia che siano donne, sono sinceramente rompi coglioni, per cui bisogna chiudere assolutamente. Bene, allora soltanto in questo modo tu potrai diventare la persona migliore. Soltanto in questo modo tu potrai diventare la donna migliore, la donna che tutti cercano. non ci sono altre possibilità, è vero, la vita è una sola, unica, non va sprecata diciamo con persone che non ti danno quello che vuoi e questo devi tenerlo presente un fatto fondamentale, la vita è veramente importante e quindi e quindi e quindi devi tenere presente questa cosa, non puoi, l'unico modo per diventare la donna migliore è quello di portare avanti diciamo il tuo benessere personale e la tua forza interiore. Bene, nel frattempo seguimi su Instagram Massimo Terramasco Ufficiale seguimi su TikTok e ovviamente su tutti i miei canali YouTube. Iscriviti e gratis a tutti i miei canali YouTube. Cara Margaciona